Presentato a Imola il primo trofeo McDonald's riservato alle squadre di Serie A, un trofeo che nel corso della fase organizzativa è diventato internazionale. Scopriamo perché parlandone con l'organizzatore, il presidente di Diffusione Sport Pasquale De Simone. Grazie alla collaborazione del vero Vole di Monza che ha dato una grossissima mano nel prendere contatti con le società, ma siamo riusciti anche a coinvolgere per questo torneo una squadra polacca e quindi non ci saranno solo tre squadre di Serie A1 femminile italiana, quindi il Saugella Monza, il Bisonte Firenze e l'Ardini Filottrano, ma anche il Deverop reso la squadra polacca di Serie A1 polacca che rende internazionale il nostro torneo. Il torneo che sarà al Palaruggi di Imola il 13-14 settembre, le partite del venerdì 13 inizieranno alle 17.30 le finali del 14 settembre invece alle 15.30. Oltre all'originale iniziativa di raccolta fondi attraverso il crowdfunding che è stato un po' lo start di questa idea organizzativa, tra gli enti patrocinatori del torneo, oltre a Regione Emilia-Romagna e città di Imola, anche la Lega Pallavolo Serie A femminile è un punto d'orgoglio, De Simone. Sì, per noi è un motivo di vanto avere la Lega Pallavolo Femminile Serie A che ci ha rilasciato il suo patrocinio perché testimonia la serietà del nostro evento, ci sono società importantissime del panorama pallavolistico, ma anche le aziende che sono state vicino alla stessa McDonald che dà la denominazione al primo trofeo McDonald, è un'azienda che non partecipa a tutti gli eventi, quindi gli eventi devono essere di qualità e noi ce la stiamo mettendo tutta perché queste aspettative da parte sia di sponsor sia di enti, istituzioni, vengono poi soddisfatte. Sì, è un evento, il primo trofeo McDonald città di Imola, un evento che darà lustro appunto al nostro territorio e che porterà a Imola giocatrici di Serie A che già da diversi anni non si vedono. Questo è motivo d'orgoglio per tutto il nostro tessuto, anche produttivo, perché comunque verranno coinvolte aziende e partner locali e per questo bisognerà ringraziare il presidente di Diffusione Sport Pasquale De Simone, un evento che avrà una durata di due giorni, il venerdì 13 e sabato 14 settembre al Pallaruggi, un evento molto interessante al quale l'amministrazione comunale ha deciso giustamente di patrocinare.